Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like che attiverà la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia quando sembra confermato al 100% l'arrivo di un'ondata di gelo di origine polare sull'Italia. Infatti ecco che a partire dal pomeriggio serata di domani soffieranno forti venti provenienti dai quadranti orientali che faranno abbassare molto velocemente la temperatura sia il suolo che in quota e anche i geopotenziali soprattutto sulle regioni centro-settentrionali che favoriranno appunto all'entrata della termica meno 4, meno 8 sulla pianura padana. Tale termica nel corso delle ore poi si dovrebbe andare a sedimentare nei bassi strati andando a formare il cosiddetto cuscino padano che grazie all'arrivo di precipitazioni provenienti da sud-est dalla formazione di un minimo orografico sul Mar Ligure darà vita a nevicate anche abbastanza intense fino in pianura nella serata di domenica 26 su Piemonte, Liguria, Lombardia e soprattutto sull'Emilia. Proprio su basso Piemonte ed Emilia ci aspettiamo accumuli fino a 10-20 cm in pianura e fino a mezzo metro in collina.